buonasera siamo mega andrea ale andrea ale allora stasera avevo mangiato la pizza e abbiamo comprato una bustina di pokemon bianco e nero 4 euro e 50 speriamo che questi quattro ore 50 sono spesi bene allora abbiamo la bustina il foglio e la bustina di zia apriamo la bustina bene aperto proprio molto delicati prendiamo le carte adesso il mio fratello alessandro ve li fa vedere lui le carte abbiamo un panze bellissimo in uno zoro luminoso poi un zebustrica un emboa rolo bellissimo poi un solacis brillante un duzion l'evoluzione di sosis un diot bellissimo uno zoro un reshira è un gheridos brillantino molto raro e ora vi faccio vedere solo le rare che sono uscite ma quattro e cinquanta spesi bene finalmente brescina zoro zoro e gheridos siamo stati anche fortunati perché c'è uscita una brillante in più vi saluto da lega andreale è qui è tutto mettete mi piace commentate notte